Mediaset acquista il film turco Maison, trama e cast. Il successo delle sopopera turche non sembra avere fine. Dopo la conclusione di Terra Amara, anche Endless Love è entrata nel cuore del pubblico ed ora lo stesso potrebbe succedere con i film turchi. Infatti, prossimamente in programmazione arriveranno diversi film turchi, tra questi adi Bioblum, con il titolo internazionale di Maison. Al centro dell'attenzione di questo film drammatico ci sono un giovane padre e il suo amato figlio. Ali, pescatore, ha dedicato tutta la vita al suo piccolo Efe. Il bambino, infatti, ha un grave problema di comunicazione, non può ridere e non può parlare, non interagisce in alcun modo né con gli altri bambini né con il mondo esterno. Ciò nonostante, riesce comunque in qualche modo a comunicare con suo padre, che è l'unico ad avere pazienza con lui. Se questa situazione porta dei momenti drammatici, porta con sé anche tanti momenti di rivalsa in cui entrambi vogliono recuperare il tempo che hanno perso e non solo. Ovviamente, nel corso della trama subentrano anche altri personaggi, positivi o negativi, che però si mostrano fondamentali per la vita di entrambi i protagonisti. Alla fine, ciò che rimane è sempre l'amore tra padre e figlio, quello di Ali verso Efe che è stato disposto a rinunciare a tutto per prendersi cura del suo bambino e dargli la giusta serenità. A di Bioglum, che forse verrà ulteriormente tradotto in italiano dopo il suo titolo internazionale Maison, è un film del 2018. In Turchia ha riscosso un grande successo e tra gli attori protagonistici sono dei volti già noti al pubblico di Mediaset. A vestire i panni di Ali infatti c'è Kwan Statiltu, celebre protagonista della ragazza e l'ufficiale, nonché di brave and beautiful. Tra gli altri protagonisti ci sono Busra Develi nei panni di Leila e Yüce Lerten che interpreta Asmet. Ali Anturk Demir invece è il piccolo Efe, talentuosa giovane promessa. Per quanto riguarda la data di messa in onda, al momento non ci sono indicazioni di questo tipo. Secondo molte indiscrezioni i film potrebbero andare in onda a partire dalla prossima stagione televisiva. Farebbero parte infatti di una sorta di pacchetto di film turchi ed è improbabile che possano essere trasmessi d'estate. Sicuramente, nel corso delle prossime settimane arriveranno ulteriori notizie in questo senso, soprattutto quando verranno presentati i palinsesti di Mediaset per la prossima stagione televisiva. Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere questo film e la trama vi sembra interessante oppure no? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Ciao! 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 Ciao!